Ciao ragazzi e ragazzi, in questo nuovo video c'è un video, scusate, corto, perché un video praticamente corto perché vi voglio dire, questo è un avviso per i moderatori allora i moderatori, che ho chiamato anche mod, possono anche, possono togliere i commenti delle persone che fanno gli scrittori i cambi gli scrittori i cambi non si può fare, non è accettato, gli insulti, le bestemmie, e niente, gli insulti, le bestemmie e poi, questo video si chiama, avviso per i moderatori e allora ragazzi, questo video, questo video, dico allora, i moderatori, dico i moderatori non abusate del grado di moderatori, perché vi posso anche eliminare non, non, ecco, non abusatene e non e non, e non non abusatene, non fate non, non abusate comunque ragazzi, questo era un video un po' corto per dire cose se ci sono degli haters, li mettete in timeout niente, poi vedete voi cosa volete fare cioè io non è che vi posso dire cose, mica cose, se sentite voi, lo fate no, ragazzi eh, cosa altro devo dirvi ragazzi, spero che questo video cortissimo vi sia piaciuto iscrivetevi, condividete, attivate la campanella, passate dai miei social ciao, alla prossima